C'è un po' di risultato, ci abbiamo presentato la notizia. Buon pomeriggio, bentrovati agli spettatori di Fil Rouge TV, benvenuta a Valentina Palmeri, deputata regionale di Attiva Sicilia e portavoce dei Verdi in Sicilia. Grazie onorevole Palmeri per essere con noi. Grazie a voi, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Ecco, allora parliamo con l'onorevole Palmeri di questa legge, appunto prima firmataria l'onorevole Palmeri, che inasprisce le pene per chi causa incendi dolosi. Ecco, di che cosa si tratta onorevole? Ci vuole spiegare lei per favore? Sì, allora questo disegno di legge è un disegno di legge voto perché ora richiederà il passaggio appunto dell'approvazione al Parlamento nazionale per la sua validità. In poche parole si è inciso sui articoli 423 e 423 bis del codice penale, ossia incendio generico e incendio boschivo. E quindi in particolare inasprire, introducendo una sanzione pecuniaria e quindi commisurata al danno arrecato. Quindi se ad esempio il sito danneggiato, bruciato è una discarica, sì appunto questa sanzione sarà commisurata al danno arrecato, in questo caso il sito. Per quanto riguarda l'incendio boschivo invece la sanzione sarà commisurata agli ettari di terreno di bosco incendiato. Oggi le pene già sono abbastanza pesanti perché si arriva a una reclusione di 10 anni, quindi questo si aggiunge alla reclusione perché evidentemente non sono sufficienti, visto che ad oggi gli incendi dolosi sono fra le prime cause e anche colposi fra le prime cause di incendio in Italia. Inoltre il disegno di legge interviene anche sull'introduzione e sull'utilizzo di tecnologie militari, satellitari come ad esempio i droni satellitari che possono sicuramente aiutare nel monitoraggio ambientale e nell'individuazione dei responsabili, perché sicuramente bisogna lavorare sulla prevenzione, sull'individuazione e monitoraggio ambientale piuttosto che intervenire poi successivamente a danno arrecato. Nessuna pena per quanto aspra possa essere restituirà mai quelle piante distrutte, andate distrutte dall'incendio, però come lei stessa prima diceva le pene sono già abbastanza aspre, dunque evidentemente queste persone che causano gli incendi hanno una tecnica, una dimestichezza, un uso diciamo collaudato in questa pratica, ma viene da chiedersi intanto non si capisce bene chi possa essere e perché causa questi incendi dolosi, cosa c'è dietro gli incendi dolosi in realtà? Allora, sicuramente spesso è stato notato la presenza di una regia, questo è vero, soprattutto per alcune tipologie di incendio, però è anche vero che nell'ambito degli incendi boschivi le cause sono variegate, gli interessi sono molteplici, spesso nell'ambito delle speculazioni edilizie, spesso nell'ambito della gestione del territorio, quindi talvolta sono stati anche personali che poi si occupa, ma non sempre, quindi ci sono anche dei pregiudizi sicuramente duri a morire, ma sicuramente la regia purtroppo non è unica, quindi questo rende estremamente complesso di volte e volte individuare l'interesse che riguarda quel territorio specifico, quel sito specifico, per questo serve un monitoraggio ambientale costante, perché oggi purtroppo i boschi sono abbandonati a se stessi, il territorio è abbandonato a se stesso, c'è un problema di personale grave, molti sono in età avanzata, molti stanno in ufficio, quindi serve una maggiore presenza sul territorio e le tecnologie satellitari, come ad esempio i droni satellitari che non sono assolutamente visibili ad occhio nudo, perché stanno ad altezze elevatissime, possono essere un ottimo strumento in più alla presenza dell'uomo sul territorio per andare a individuare i responsabili. Una buona idea sarebbe quella di esercitare un controllo sociale, pubblico, non so, per esempio affidare a delle scuole, a degli studenti, anche a delle strutture recettive, alberghiere, come dire, il controllo, l'amore verso una porzione di bosco, in modo da sapere i rischi che accorre, quali potrebbero essere gli interessi dietro, diciamo, quella parte di bosco, per cui in questo modo si terrebbe viva l'attenzione e il controllo. Avete anche pensato a qualcosa del genere? Sì, lei ha detto bene, perché sicuramente le cosiddette sentinelle ambientali, che possono essere semplici cittadini, sono un aspetto importantissimo della questione, perché ad oggi ad esempio i boschi dovrebbero ritornare a essere vivi, produttivi e vissuti dall'uomo, così come le campagne che purtroppo subiscono e soffrono dell'abbandono, i terreni incolti, le terre, le aree interne della Sicilia, che vengono abbandonate. Quindi sicuramente l'individuazione, ad esempio, delle sentinelle ambientali, dei custodi dell'ambiente, ecco, questi sono degli aspetti su cui stiamo lavorando, attraverso altri disegni di legge, come ad esempio quello dell'agroecologia, che già è stato approvato nelle varie commissioni di merito e che ora aspetta l'approvazione in aula, questo per dire che bisogna dare un riconoscimento a chi sta sul territorio, a chi tutela l'ambiente e a chi accresce, si impegna ogni giorno per accrescere la biodiversità, perché ad esempio l'agroecologia oggi, l'individuazione di questa nuova realtà aziendale, è qualcosa che abbiamo pensato proprio per accrescere la biodiversità agricola aziendale e in questo contesto aziendale abbiamo pensato, ad esempio, anche al problema degli incendi, quindi l'utilizzo del fuoco, ad esempio, per fare, che è utilizzato in alcune tecniche culturali, dovrebbe essere estremamente evitato, monitorato, quindi serve anche maggiore cautela in questo senso e la biodiversità è un aspetto oggi fondamentale da monitorare, la desertificazione va avanti e la crescita delle temperature, anche ad esempio dell'anno scorso, sono state un grado al di sopra della media alla seconda metà dell'Ottocento e poi in Sicilia, sicuramente ha peggiorato la situazione, ha fatto sì che gli incendi si diffondessero con maggiore velocità e violenza, quindi c'è anche un problema di desertificazione che è legato alla riduzione dei boschi, quindi sono tutti problemi fra loro assolutamente correlati, ricordiamoci che la Sicilia l'anno scorso è stata praticamente, purtroppo ha avuto la maglia nera in Italia come numero di incendi, la seconda regione è stata la Puglia, quindi abbiamo dei numeri spaventosi. Ringraziamo l'onorevole Valentina Palmeri di Attiva Sicilia, portavoce dei Verdi in Sicilia per questo appunto suo impegno a tutela del nostro patrimonio boschivo. Grazie onorevole Palmeri per essere stata con noi. Grazie a voi, grazie. Buon pomeriggio. Grazie agli spettatori di Filluge TV, buon pomeriggio.